cooperativa agricola volpago da noi trovi la carne fresca di prima qualità genuina e salutare per il tuo benessere ci trovi a volpago del montello pieve del grava e tre baseleghe bentrovati al meteo il mese di giugno inizia con l'anticiclone che protegge il nostro territorio da metà settimana poi in arrivo anche il primo vero caldo estivo vediamo il dettaglio sul veneto la grafica di martedì evidenzia una situazione tranquilla come detto l'alta pressione garantirà un tempo asciutto e stabile con tanto sole su tutti i settori della nostra regione qualche addensamento in giornata ma insomma senza piogge temperature stazionarie gradevoli minime tra 10 e 15 gradi valori massimi compresi invece tra i 19 e i 25 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche qui avremo un ampio soleggiamento qualche nuvola in più al mattino ma sarà del tutto innocua temperature minime tra 10 e 14 gradi massime sui 22 23 gradi infine ci spostiamo sul trentino alto adige dove di fatto avremo poche novità sarà soleggiato ovunque il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso temperature minime intorno agli 11 gradi massime sui 24 25 gradi dal meteo per ora è tutto vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di antena 3 arrivederci al prossimo aggiornamento cooperativa agricola volpago da noi trovi la carne fresca di prima qualità genuina e salutare per il tuo benessere ci trovi a volpago del montello pieve del grava e tre baseleghe